L'Ascoli affronta il Cosenza al Picchio Village nel match valevole per la ventiduesima giornata del girone B del campionato Primavera 2. Ledesma si affida a Sciammarella in porta, poi Cauci, Capitan Cozzoli e Barrotta, Rossi, Piermarini e Deriu, Bando, Tarantino, Lo Scalzo e Solmonte. Di fronte i rosso-blu allenati da Mister Gatto, arbitra Totaro della sezione di Lecce. L'Ascoli in completo nero contro il Cosenza invece in tenuta bianca. Terzo minuto, subito in avanti i padroni di casa, in questa rimessa a lunga di Deriu, poi Bando, alla ricerca di Cozzoli, si salva sulla linea di porta, Attanasio e spazza via. Ancora Picchio con questo tiro dalla bandierina al decimo, colpo di testa di Solmonte che sfila a lato. Diciannovesimo minuto, Deriu, il suo traversone, arriva a Solmonte, salta più in alto del portiere Castelnuovo e gonfia la rete. A segno l'attaccante classe 2005, arrivato in presito da Napoli nel calcio mercato invernale, la sblocca la squadra di Mister Ledesma. Ancora Picchio con lo scalzo, le sue finte, poi il tocco per Bando, dentro alla ricerca di Deriu, colpo di testa tra le braccia di Castelnuovo. Si fa vedere il Cosenza con questa percussione da parte di Bellotti, che allarga per il capitano Chisari le sue finte, poi il destro che viene murato da Bando. Lasco in avanti con Rossi, poi c'è questo traversone da parte di Solmonte per Deriu che di testa sfiora il palo. Tarantino, allarga bene sulla destra per Barrotta, che arriva in aria, poi il destro murato, ancora Barrotta stavolta col sinistro, grande parata di Castelnuovo. Estremo difensore classe 2006. Corner per i ragazzi di Mister Ledesma. Cozzoli mantiene vivo il possesso, poi il suo cross ancora una volta Solmonte di testa è implacabile. Doppietta per lui, è terzo centro in maglia bianconera. 2-0 per l'Ascoli. Il Cosenza con Bellotti, pallone al centro, si incartano qui i difensori bianconeri, il destro di Pellizzaro deviato in corner da Piermarini. Secondo tempo con l'Ascoli in vantaggio 2-0, sempre in forcing, il pallone di casa. Qui c'è Tarantino, l'appoggio per Bando, destro insidioso che sfiora il palo. Il Cosenza con questa botta di Attanasio che non inquadra, lo specchio da porta. Solmonte per Bando, destro dai 20 metri, presa sicura di Castelnuovo. Attanasio dal limite col destro di poco out. Punizione alla mezz'ora dalla tre quarti per i calabresi. Il tentativo in rovesciata di De Angelis, super parata di Sciammarella. Ancora il Cosenza con De Angelis che allarga per Barone, diagolale col mancino. Questi ora è il palo più lontano. Nel recupero c'è un corner per i ragazzi di Mister Gatto. Batti e ribatti in aria piccola, si salva la retroguardia dell'Ascoli. Finisce con la vittoria per 2-0 del Picchio. La decima stagionale diventano 33 i punti in classifica dei ragazzi di Mister Ledesma in vista del prossimo match sul campo della capolista Cesena.